La marcatura quando è che deve esistere? Perché oggi i marcaturi non esistono più? Perché oggi gli allenatori giocano una zona, quindi te marchi da qui a qui tre metri, poi esci fuori tre metri e un centimetro, di chi ergo? Di quello che stava prima i tre metri o di quello che stava dopo i tre metri? Non c'è più responsabilità. Gentile, oh, marchi Maradona, e Maradona usciva con la maglietta rotta, oh, marchi Zico, e Zico usciva con la maglietta rotta, e oggi uscimo con il naso rotto noi, Bellucci, Bonucci, naso rotto, ma tu sapete che in terzino vi hai i botti da un attaccante? Italiano poi, con lo svedese. Io ai tempi che ero ragazzina, a Svezia facciamo 5-0, 6-0, 7-0, 8-0, ma eravamo i nazionali che c'era Causio, Bruno Conti, Artobelli, ma sono italiani, o sono riundi? Ma andiamo a prendere i giocatori in Serie C, in Serie B, non sai quanti ce ne stanno più bravi di quelli che stanno in Serie A, oriundi? Famo la finita, siamo italiani, orgoglio italiano, orgoglio italiano.